Le mareggiate di inizio febbraio e le forti raffiche di vento del 6 marzo scorso hanno provocato danni ingenti alle strutture balneari della costa e nonostante la bella stagione sia già arrivata, la città deve ancora fare i conti con diversi problemi causati dal maltempo. Tra le priorità ci sono sicuramente ripascimenti delle spiagge, ma come ci segnalano alcuni operatori della zona Arzilla, ci sono anche situazioni di incurie e degrado in via del Moletto. Contate di aprire per il 25 di aprile? Sì, il 25 aprile e il primo maggio, subito con due belle feste per dare il bentornati alla nostra clientela subito al mare. E già vi state adoperando quindi? Sì, ormai è circa un mesetto, un mesetto e mezzo che abbiamo ricominciato a sistemare la nostra spiaggia. Ci sono diversi problemi, a partire dalla ghiaia in esubero da portare secondo il comune la Sassonia, però ancora ad oggi non ci hanno dato notizie. C'è il problema dell'entrata, perché fondamentalmente il ponte della ferrovia passando da Tano è fondamentalmente inagibile dal fango e il ponticello che viene dal Lido ancora nessuno ci ha messo le mani per dare una sistemata e quindi la gente rischia di non poter venire in tutta la zona Arzilla. Invece il verde pubblico nella scarpata della ferrovia in che stato è? Il verde pubblico è della ferrovia come tutti gli anni, cioè se non lo potiamo noi, se non lo curiamo noi, nessuno si fa vedere. È una corsa ai lavori per salvare la stagione, ma gli operatori turistici stanno facendo del loro meglio per rendere le spiagge belle ed accoglienti agli occhi di fanesi e turisti. D'accordo con la situazione di degrado è Richard Mengucci dello Chalet del Mar, locale che inaugura questa sera e chi ha subito dei danni, come un dislivello sempre più evidente causato dalla forza delle onde, a denunciare l'indifferenza dell'amministrazione comunale e anche Umberto Cazzola. Quando contate di aprire? L'idea era tra una settimana, dieci giorni, insomma, tempo permettendo e anche condizioni esterne permettendo. Con tutti i problemi nati a causa del maltempo degli scorsi mesi, il comune vi è stato vicino, vi ha aiutato? Sì, a parole sì. Poi, a dire la verità, sono venuti solamente oggi, quando avevamo chiesto di anticipare un po' i tempi, a togliere i detriti portati dall'inverno. Ancora la passerella, l'ingresso qua all'Arzilla è tutto lasciato un po' alla deriva. Per quanto riguarda il ripascimento invece? Per quanto riguarda il ripascimento, penso che per quel che riguarda la sabbia sia un po' complicato, perché è necessario fare analisi sulla sabbia da portare, che andrebbero a finire dopo l'estate, quindi ci si ingegna come si può.